E ragazzi in questo momento vorrei parlarvi delle donne Alcuni uomini non li piacciono le donne perché sono gay Ma alcuni sì che li piacciono Le donne sono tutto, sono bellissime, hanno tutto, sono rovinate, hanno tutto E non abbiamo praticamente il suo defecto è che sono un pochino gelose La maggioranza è gelosa ma alcune no Ad esempio il cane è gay e è innamorato di me Vedrai come esce adesso che è un pazzo Sincrono in 2 minuti perché sempre esce